Nel corso di un ride a scopo di rapina Occhiobello, in provincia di Rovigo, tre individui armati e travestiti hanno minacciato e ferito tre anziani in due diversi episodi. Nel primo caso, i tre si sono introdotti nell'abitazione di una donna di 78 anni e minacciandola con una roncola le hanno sottratto un'esigua somma di denaro e l'auto che poi è stata abbandonata poco lontano. Quindi i malviventi si sono introdotti in un'abitazione bastonando una coppia, lui di 68 anni, lei di 63, per sottrarre alcuni monili d'oro. Marito e moglie hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere a Rovigo. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.